Buongiorno, ben ritrovati, appuntamento di giovedì 9 maggio 2019 con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola, come di consueto andiamo per ordine, partiamo dalle prime pagine dei giornali abruzzesi, siamo al centro, ecco qui inquadrata in primo piano l'edizione di Pescara, vedete Pescara, cantieri e proteste, via Nicola Fabrizi, commercianti infuriati, negozi vuoti e niente incassi e la fine dicono gli esercenti. Vediamo anche nella parte alta della pagina, il Tar ha bocciato i ricorsi, parliamo di politica ovviamente e salva la maggioranza, ha bocciato il ricorso del centro-sinistra per quanto riguarda le regionali del 4 marzo scorso e a proposito di politica si accende davvero la battaglia elettorale in vista delle amministrative del 26 maggio a Pescara ma anche negli altri centri tra cui Montesilvano e Giulianova che sono i centri più grandi della nostra regione oltre al capoluogo adriatico dove si tornerà a votare e questa sera il ministro dell'interno Matteo Salvini sarà in piazza a Montesilvano e Giulianova per sostenere i candidati del centro-destra. Torniamo poi nella parte più centrale della pagina, vediamo la fotonotizia che riguarda la basilica della Madonna dei Sette Dolori di Pescara perché tornano alla luce gli antichi affreschi della basilica dopo i lavori che sono stati portati a termine proprio nelle ultime ore e domani arriveranno anche le reliquie di San Nunzio. Vediamo le altre notizie, una che riguarda la politica nazionale, il Premier Conte revoca l'incarico al sottosegretario Siri, la Lega non rompe. Vediamo poi le cronache Pescara, stabilimenti, vandali e ladri, scatta l'allarme presso gli stabilimenti Elidi della riviera di Pescara e poi Pescara calcio, parla il difensore del grosso, grinta e fame, credo nella Serie A, dice il difensore alla vigilia a poche ore dall'ultima gara della stagione regolare che vedrà il Pescara sabato impegnato alle 15 allo stadio Adriatico con una salernitana affamata di punti. Lasciamo lo sport e torniamo alla cronaca, Rigopiano, vedete in basso multe, turisti dell'horror, decreto di condanna alle 22 persone che violarono il divieto di accesso al resort. Vediamo la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro, l'apertura è dedicata alla stangata Tari, così viene definita, scoppia la protesta, a Chieti arrivano le bollette della tassa su rifiuti con gli aumenti fino al 17%. E poi ci spostiamo a Teramo, riconoscimento a Luigi Savina, all'Università di Teramo per Savina che è il vice capo della Polizia. La lotta alla criminalità è stata una ragione di vita per il Poliziotto abruzzese che si è fatto onore proprio in questi anni portando avanti delle indagini davvero molto molto delicate. Lo vedete nella foto mentre viene premiato dal Rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola proprio nell'Università in cui Savina si era laureato. Vediamo le altre notizie. Lanciano, agonia della piscina dopo il gas staccata la luce, poi Vasto il no del sindaco a 6 ipermercati, divide la città. Tornando a Chieti, Nobili Valignani e il Marco Polo, Teatino la storia del capoluogo Teatino. Vediamo poi, restiamo a Chieti per la cronaca, io colpito la testa con la pistola, Chieti denuncia di un 41enne, sono stato aggredito alle giostre da uno sconosciuto. Vediamo anche la prima pagina del centro di Teramo, in questo caso ristoratore stampa targhe false. Teramo la polizia scopre l'attività illecita e lo denuncia insieme a 6 clienti. Vediamo anche le altre notizie. Giulianova ha un comitato per riaprire il cinema e poi inventa i campi dove si insegna la tecnologia. Protagonista un giovane rosetano. A proposito di Roseto, parliamo del Roseto Basket che lotta ma non ce la fa, perde con il Trevigno e dà l'addio al primo turno dei play-off. Lascia i play-off dopo il primo turno. Siamo in Val Vibrata, Martinsicuro estorceva soldi a mamma e moglie, condanna per il pescatore naufragato e salvato dopo 40 ore in mare. Andiamo a vedere la pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. Ex Reis Romoli affare da 4 milioni. Siamo all'Aquila, sede acquistata dagli imprenditori Baratelli e Del Beato. E poi dall'Aquila ad Avezzano, Guanciale, torna lo scientifico. Qui inizia la mia storia. Il popolare attore, ospite nella scuola dove aveva studiato da ragazzo Lino Guanciale, l'attore avezzanese che è uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano grazie alla partecipazione a tante, tra l'altro, tante serie televisive. Siamo alla pagina sempre dell'Aquila di Avezzano e Sulmona del centro. Concorso, vediamo questo titolo, Sulmona in 422 candidati per 5 posti da vigile urbano. E poi Castel di Sangro, grande tennis con i campionati studenteschi. Un altro titolo, Avezzano, nostro figlio disabile dopo i vaccini. Genitori chiedono maxirisarcimento al Ministero e Agenzia del farmaco. Lasciamo le prime pagine del centro. Andiamo a vedere quella dell'inserto Abruzzo, del messaggero. Ricostruzioni in ritardo. Il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, lancia l'allarme durante la commissione tecnica a Roma. Ecco le nostre proposte al governo. Subito le norme per velocizzare i cantieri. E poi vediamo l'articolo di Spalla. Regione, il Tarre spinge tutti i ricorsi degli esclusi. Ne parlavamo anche prima con il titolo del centro. A proposito di politica, la corsa a sindaco Montesilvano e Giulianova. Questa sera sarà presente con dei comizi il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che nella foto vedete inquadrato con il coordinatore regionale della Lega, Bella Chioma. Restiamo nella parte alta della pagina. Ci spostiamo ad Avezzano, anziano picchiato dalla Badande, perché chiede di poter mangiare. Vediamo poi più in basso. Siamo nel Pescarese, in Val Pescara. Per la precisione, camerieri, meccanici e ballerine. La finanza stronca il lavoro nero. I titolari delle attività irregolari notificate multe fino a 10.800 euro. Siamo in Val Vibrata, contravenzioni per i rifiuti lasciati in strada. E poi all'Aquila, progetto case, alloggio a fuoco, rogo provocato da Balordi. Torniamo in alto per parlare di calcio, del Pescara. Pescara è griglia dei play-off. Se vince, vista sul quarto posto, perché ricordiamo che c'è da esaminare. Lo farà la giustizia sportiva. La situazione del Palermo, che potrebbe essere anche penalizzato. Per il Pescara, dunque, in caso ovviamente di vittoria con la Salernitana, potrebbe esserci anche la possibilità di agguantare, di acciuffare il quarto posto, qualora dovesse arrivare una penalizzazione rilevante per la formazione siciliana. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città, presidente della Teramo Ambiente in tempi record. Pubblicato il bando di selezione, tra due settimane il sindaco sceglierà il successore di Bozzelli. E poi, anche sul quotidiano La Città, vedete la foto con il riconoscimento dato il guido secondo al prefetto Savina, il super poliziotto abruzzese, che è stato premiato ieri dal rettore all'Università di Teramo. Vediamo altre notizie. Bocciati i ricorsi per i seggi regionali, il Tar dà ragione ai conteggi della Corte d'Appello. Vediamo anche un titolo che riguarda il Teramo, pagelle di fine stagione per i biancorossi, che sono salvi senza l'ausilio dei play-out e poi Tortoreto, incuria e degrado negli edifici scolastici. Infine andiamo a fondo pagina. Ne abbiamo parlato prima, sia leggendo le pagine del centro che del messaggero. Matteo Salvini oggi torna in piazza del mare, in questo caso a Giulianova, per sostenere Tribuiani e poi alle 21 sarà a Montesilvano per sostenere il candidato del centrodestra De Martinis, candidato primo cittadino. Siamo all'edicola nazionale, iniziamo con la prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera. Si rivia la Lega non rompe, Di Maio accusa raggi per l'incontro con i Rom e il Papa invita la famiglia. Conte firma il decreto di revoca inchiesta sulla Lombardia, IPM, c'è un suggeritore, questo è il titolo di apertura del quotidiano milanese. Vediamo anche più in basso, vedete la foto, festa nel Regno Unito perché è arrivato il piccolo Archie, il figlio di Megan ed Erri, vedete le foto proprio del piccolo. E poi siamo alla Fiera del Libro di Torino, l'editore di Casa Pound fuori dal salone del libro, l'indicazione di comune e regione agli organizzatori. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, vediamo Il Fatto Quotidiano, Fontana inguaiato, il concorso pilotato e l'incarico dell'ex socio, questo è il titolo di apertura del fatto. Abuso d'ufficio, ecco perché il PM di Milano, scrive Il Fatto Quotidiano, l'hanno indagato, conflitto di interesse. Vediamo poi più in basso, Siri non c'è più, vince Conte, l'altro titolo che riguarda la politica e Salvini si vendica sul TAV. Questi sono i titoli principali del quotidiano Il Fatto, vediamo anche la Repubblica, Raggi sfida i fascisti, Di Maio l'abbandona, questo è il titolo di apertura del quotidiano romano, lei ha casal bruciato in difesa della legalità, lui la scarica prima i romani degli altri. Vediamo anche l'altro titolo che avevamo già letto dalla prima pagina del Corriere della Sera, dopo la denuncia l'editore nero indagato, adesso verrà mandato via dal salone, sarebbe il salone del libro di Torino. E poi anche una notizia di sport, in questo caso la ferita della Champions League, Juve Allegri verso l'addio all'orizzonte, c'è Conte, questa sarebbe una notizia clamorosa, si è confermata perché tutti avevano dato per scontato in primis i diretti interessati la conferma di Allegri sulla panchina bianconera. Siamo al messaggero nazionale, fuori Siri, crisi solo rinviata, il Premier Conte si lura il sottosegretario indagato, scontro in Consiglio dei Ministri, la buongiorno grave precedente. E poi vedete in alto, svolta al salone del libro, Comune e Regione sfrattano l'editore Altaforte, poi Agnelli, scarica Allegri, Conte torna alla Juve, Champions League, Miracolo Spurs, perché ieri sera c'è stato il risultato clamoroso della vittoria del Tottenham per 3-2 con l'Ajax, gol vittoria, segnato al 96esimo minuto. Siamo al manifesto, vedete il titolo di apertura, Raggi rompe l'assedio razzista i Rom, questo il titolo nella parte alta della pagina. E poi la fiera del libro al Via Torino, Altaforte, è fuori. E poi il Coniglio dei Ministri, questo è il titolo, come sempre, che gioca sulle parole, in questo caso riguarda il Consiglio dei Ministri, Siria è fuori dal governo, indagato per corruzione, Conte, leggiamo qui dal manifesto, gli revoca le deleghe dal cilindro di Palazzo Chigi, arriva la resa di Salvini, che vedete inquadrato nella foto in primo piano. Siamo al giornale, il governo finisce qui, capolinea, scrive il quotidiano milanese, vicino al centro-destra, Conte licenzia Siri, Salvini incassa la sconfitta, ma è esaurita la fiducia. Vediamo anche il mattino di Napoli, Noemi, l'affondo di Gabrielli, basta spot, lavoriamo di più, il capo della polizia, il ferimento della bambina, dice uno schiaffo allo Stato, il prete Anticamorra, 30 anni fa, dissi, fui Edvene, nulla è cambiato e ovviamente c'è stata, lo ricordiamo, anche la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, perché a Napoli davvero è di nuovo emergenza sicurezza. Da Napoli ci spostiamo a Roma, sempre dalla prima pagina del mattino, la raggi Rom hanno diritto alla casa, Di Maio l'attacca, pensi di più ai romani e poi il titolo che riguarda il governo, Conte, Revoca Siri, Di Maio e Salvini non si parlano più. Vediamo anche Libero, quanti ladri di polli, la tangentopoli dei poveretti, scrive Libero e poi vedete il titolo più in basso, Fontana ha detto no alla corruzione, lo indagano per abuso d'ufficio. Questo è il titolo di Libero che riguarda l'inchiesta di Milano. Siamo al sole 24 ore, Tria non ha più deficit per tagliare le tasse, coperture strutturali, dice il Ministro. E poi vedete in basso, Caso Siri, Conte, Revoca la nomina, Salvini ora fa tax da 13 miliardi e TAV, ma ovviamente, lo abbiamo letto anche dagli altri quotidiani, c'è tensione nel governo. Siamo alla stampa di Torino, il salone chiude la porta a Casa Pound, vedete il titolo di apertura proprio che riguarda il salone di Torino, il quotidiano torinese non poteva che aprire con questa notizia anche per questioni prettamente geografiche. E poi vedete in basso, Siri, la spuntano i 5 Stelle, ma Salvini rilancia subito, Droga pronto alla crisi. Il leghista dice chiuderò il cannabis shop 1 a 1, i grillini ribattono, basta minacce. Lasciamo dunque anche i quotidiani nazionali, l'edicola nazionale, possiamo ripartire dalle pagine del centro per andare a seguire le notizie che riguardano la nostra regione. Ripartiamo da pagina 2 con la sfida politica al Tar, perché elezioni, ricorsi bocciati, la maggioranza è salva, Febbo, Sant'Angelo e Scoccia restano ai loro posti e questi sono i verdetti che sono arrivati dopo il respingimento dei ricorsi da parte del Tar dell'Aquila. Intanto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri convoca per martedì un Consiglio regionale, si parlerà del caso Gran Sasso, ma non solo. Vediamo anche l'altra pagina che riguarda le reazioni ai ricorsi respinti dal Tar, Febbo e Sulta, voglio vedere se persistono. Bellisario lo faremo e dunque si potrebbe andare avanti. Intanto la politica vedrà questa sera ospite in Abruzzo a Giulianovo e Montesilvano in particolare il Ministro dell'Interno Salvini che andrà a dare manforte questa sera ai candidati del centrodestra dei due comuni Montesilvano e Giulianova. Intanto l'Abruzzo presenta il piano anticorruzione, questa è l'altra notizia che troviamo a pagina 3 dalle colonne del centro. Siamo ancora alla cronaca regionale Gran Sasso, il MIT presenta la proposta sul commissario, questo è il titolo di apertura, l'eventamento farà parte di un pacchetto che comprende anche il Mose di Venezia. Intanto il Presidente Marsiglio affida al Sottosegretario Crimi le modifiche chieste dall'Abruzzo. Vediamo anche l'articolo di spalla, veri incontra il forum delle famiglie più misure di sostegno, l'incontro che ha riguardato l'assessore regionale alla sanità proprio in questo forum con la promessa di maggiori misure a sostegno delle famiglie. Siamo in basso, nella parte bassa della pagina a Francavilla, 100 espositori alla fiera Fiori e Fragole che si terrà a Francavilla al mare. Vediamo le cronache dalle province, partiamo da Pescara, la città è un cantiere, questo è il titolo di apertura, via Nicola Fabrizzi chiude per lavori, commercianti per noi è la fine, proteste per i lavori che creerebbero danno alle attività commerciali. Ma c'è la risposta dell'assessore Tonino Natarelli che dice tutto finito entro sabato, dunque lavori che potrebbero chiudersi in tempi record. Vedete poi la pagina che riguarda le elezioni comunali, il calendario degli eventi estivi, i candidati lo immaginano così e vedete ovviamente le dichiarazioni degli otto candidati a sindaco a Pescara per quanto riguarda gli eventi estivi della città adriatica. E poi verso le elezioni comunali la campagna elettorale si sposta in particolare sulla sicurezza, si ne parla tanto in questi giorni, intanto l'esponente Foschi del centrodestra parla di degrado in piazza Primo Maggio a Pescara. Parliamo ora di quello che è accaduto ieri proprio nei pressi della stazione di Pescara, ma cambiando argomento anche se sempre sicurezza è perché è stata scoperta proprio ieri mattina in via Ferrari una targa in memoria di Arna Carlini, la donna di 33 anni trovata morta sotto il tunnel della stazione. Per la morte di questa donna sono indagati due giovani romeni che devono rispondere di diversi reati, tra cui quello di omicidio. C'è stata tanta commozione ieri mattina alla scoperta di questa targa, noi eravamo presenti con le nostre telecamere, allora possiamo andare a vedere il primo servizio di questa mattina proprio dedicato alla scoperta di questa targa in onore e in memoria di Arna Carlini. Vediamo. Per la mia amata sorella sei sempre stata al mio fianco, eravamo come madre e figlia, insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento, perché nella vita è bello avere qualcuno da tenere per mano ed io avevo scelto te. L'amministrazione comunale ha voluto oggi ricordare con questa targa questa donna trovata morta sotto il tunnel della stazione un gesto di vicinanza alla famiglia, sindaco Alessantrini, a tutte le donne vittime di violenza. Questo vuole essere un esercizio importante che è un esercizio di memoria, che è il collante secondo me che tiene insieme una comunità. Poi naturalmente l'attenzione a questa piaga dei nostri tempi che è il cosiddetto femminicidio, perché è un catalogo orrendo che sembra non avere fine. Quindi siamo qui a ricordare una ragazza che se n'è andata troppo presto, stringendoci in un abbraccio ideale alla famiglia, convinti però come siamo che poi la memoria non è solo un valore individuale, ma debba essere un valore collettivo e la cerimonia di oggi mi sembra che sia andata in questa direzione. Ormai abbiamo aspettato tanto, io voglio che comunque le istituzioni continuano a fare il loro lavoro, noi chiediamo giustizia, io non ce la faccio più, ormai è passato un anno e mezzo, non posso più credere che mia sorella non c'è più e gli assassini sono ancora liberi, non lo posso più credere, non posso più fare silenzio su questa vicenda, loro devono pagare, devono rispondere per il reato che hanno fatto, hanno levato una vita. Quando ci risulta è stata depositata la richiesta di avviso di conclusione delle indagini, tecnicamente dovrebbero essere anche ispirati i termini previsti dal codice perché queste due persone indagati possono esercitare le proprie facoltà, non mi risulta allo Stato che abbiano chiesto di sottoporsi a interrogatorio o quant'altro, anche perché uno è latitante, l'altro è irreperibile. Per quanto riguarda l'illatitante, però è da sottolineare come sia un soggetto gravato da una misura cautelare, quindi custodia cautelare e a quanto ci risulta si trovi in Romania e per problematiche tra ordinamenti italiano e rumeno questa persona non può essere stradata e quindi venire in Italia dovrebbe essere posto in stato custodiale. «Ritaglierò dal tuo ricordo tante stelle, così il cielo sarà sempre più bello». Questo è il servizio sulla targa in memoria di Anna Carlini, noi restiamo alle pagine di Pescara del centro, torniamo alla politica. Alessandrini, Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle, candidata primo cittadino del Movimento, parla di cultura e dice «Equità», vedete il titolo in basso, «Equità e merito per fondi e spazi». E poi un apparentamento che è stato ufficializzato ieri, che era nell'area già da qualche giorno, perché Rifondazione Comunista ha deciso di non partecipare direttamente alla competizione elettorale con un proprio candidato, ma di affiancare e di appoggiare il candidato di coalizione civica Stefano Civitarese. Vedete nella foto Acerbo e Civitarese nella conferenza stampa di ieri che si è tenuta a Pescara e allora possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio in cui vengono spiegati i motivi di questo apparentamento tra Rifondazione Comunista il candidato Stefano Civitarese. Vediamo. Da oggi perché lo annunciamo, ma già da qualche tempo, Rifondazione Comunista e Maurizio Acerbo hanno guardato e sono confrontati con il nostro progetto, con coalizione civica, hanno trovato in questo progetto molte delle cose su cui si sono battuti per anni, una condivisione sul programma che punta all'ambiente e ai diritti sociali, una condivisione sul metodo che punta a sostituire le politiche clienterari con un progetto invece che consenta di realizzare questi obiettivi e quindi noi siamo contenti. L'avevamo detto fin dall'inizio, le forze politiche che rinunciassero ai loro simboli e riconoscessero in questo progetto di coalizione civica un'opportunità per far avanzare i diritti e la tutela dell'ambiente erano benvenuti, Rifondazione quindi è benvenuta. Maurizio Acerbo, come mai la decisione di appoggiare coalizione civica? In realtà noi proponiamo coalizioni civiche in molte città italiane, voglio ricordare che a Padova coalizione civica da noi promossa ha preso il 25% dei voti ed è quello che auspico a Pescara. Voglio ricordare che governiamo a Napoli con De Magistris, con una coalizione simile conquistammo Palermo a suo tempo senza DPD né centrodestra e ci sono tantissime altre esperienze di questo genere e quindi in tutta Italia. Ci sembra stato positivo quando è venuta fuori questa proposta anche in città perché era in sintonia con quello che pensiamo che si debba fare, cioè unire tutta la cittadinanza che si ritrova sui valori della Costituzione, su una idea quindi di diritti sociali, democrazia, antirazzismo, al tempo stesso una grande sensibilità ambientale. Quindi ritrovarci insieme ad altri cittadini che come noi difendono il verde e sono per il consumo di suolo zero, che come noi pensano che bisogna smettere di costruire sopra la spiaggia anzi che va ridotta l'antropizzazione, che come noi pensano che un servizio essenziale come l'acqua debba essere pubblico come voleva il referendum e non gestito come è stato gestito negli ultimi vent'anni e solo noi possiamo parlare di questa realtà perché tutti sono stati complici del cosiddetto partito dell'acqua, sono cose che ci uniscono, ci unisce come sapete le battaglie per una mobilità sostenibile. Poi ovviamente c'è anche un pluralismo di opinioni ma se c'è un comune obiettivo la discussione aiuta a trovare le soluzioni migliori. Il problema invece è quando la politica viene sostituita dalla rappresentanza di interessi particolaristici o peggio ancora di affari che si fanno sotto banco a spese della comunità. Per cui con coalizione civica noi ci sentiamo a casa, ci sono nostri compagni e compagni candidati in lista, c'è il massimo sostegno e credo che la cittadinanza debba dare forza a questa proposta politico-amministrativa che è diversa da tutte le altre. Restiamo a Pescara, parliamo della Basilica della Madonna dei Sette Dolori in via di sotto, a freschi riportate alla luce, la Basilica torna a splendere. Ora la Chiesa, dice Padre Vincenzo, può essere ammirata con i suoi antichi decori e da domani, festa del miracolo della pioggia, arriveranno anche le reliquie di San Nunzio. Andiamo avanti, siamo ancora a Pescara, stabilimenti allarme per vandali e ladri. E poi violenza sulle donne, sala gremita per la testimonianza a Pescara di Jessica Notaro nell'occasione, nel convegno organizzato dal Rotary di Pescara Nord. Vediamo anche la pagina di Montesilvano, cittadinanza onoraria allarma, con voi territorio più sicuro, onoreficenza del Comune. Ai carabinieri, andiamo ancora avanti, proseguiamo con un'altra pagina che ci porta in provincia di Pescara, blackout di 5 ore per i lavori Enel, stop a cinema e pizza e l'interruzione della corrente ci sarà sabato nei comuni di Città Sant'Angelo, Montesilvano e Silvi a Fonte Umano, ronde contro i ladri. E intanto a Montesilvano la lista hanno zero accusa, 5 anni di immobilismo a Cepagatti, domani ci sarà un incontro, vedete il titolo in basso, su consapevolezza alimentare. E poi a Città Sant'Angelo per le elezioni parla il candidato Perazzetti, parlando di un altro candidato, dicendo è ineleggibile. Proseguiamo, siamo alla pagina di Francavilla al Mare, dell'area metropolitana della provincia di Echieti, strade sicure e parcheggi, lavori a ritmo serrato in Val di Foro, sopra il luogo dopo la rifinitura della segnaletica orizzontale e a San Giovanni Teatino, premio di organetto. 30 i partecipanti, vince un ventunenne. Siamo poi alla pagina della Val Pescara e dell'area Vestina, partiamo dal turismo horror di Rigopiano, multati in 22, hanno violato il divieto di accesso alla resort e distrutto dalla valanga per scattare foto e selfie. L'ammenda è di 6.900 euro, cronaca Popoli, lavoro nero, sanzionate 10 aziende, scoperti 12 lavoratori irregolari. E poi Farindola, incidente stradale schianto all'ingresso del paese, due feriti. Andiamo in basso, Scafa, quarantenne in festa, per ricordare i momenti più belli, mentre domenica prossima a Penne ci sarà una iniziativa dedicata al convento storico di Colle Romano. Siamo alla pagina di Chieti del centro, scoppia la protesta, file disagi, stangatatari, la rabbia degli utenti. E poi in basso, code al multipiano per gli abbonamenti, caos strisce blu, utenti rivolta. Noi paghiamo di Paolo Attacca, cattiva gestione del comune. Siamo ancora a Chieti, la cronaca, aggredito alle giostre con una pistola agguato al Lunapar, denuncia di un 41enne picchiato in testa dopo un giro sull'autoscontro con mio figlio. Scatta l'indagine dei carabinieri. Vediamo anche un'altra notizia, spaccio di cocaina alla villa di Guardia Grele, resta ai domiciliari, San Salvo. Vedete un'altra notizia, Bimba cade dallo scivolo e finisce in ospedale, serata di paura alla villa comunale. E poi Lanciano rissa al Torrione, rito abbreviato per tre ragazzi. Proseguiamo, pagina di Chieti e Provincia, parliamo del Marco Polo Teatino, i nobili Valignani, Bigi, Nezvela, la storia, il libro parla delle vicende della famiglia legata a Papi e Potenti. Oggi la presentazione sono come i medici per Firenze. E ancora altri due titoli, a Chieti le foto della Royal Air Force in mostra alla scuola a mezzanotte, invece oggi la giornata della legalità ha a Guardia Grele, Montinaro e Pellegrini, protagonisti dell'incontro con gli alunni. Alla pagina di Teramo, invece, è dedicato questo titolo a tutta pagina. Il prefetto Savina, vi racconto come siamo usciti dagli anni bui. L'Università Teramana conferisce al Vice Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, che si è laureata a Teramo, l'onorificenza Guido II degli Aprutini per la sua lotta alla criminalità organizzata e a tutte le mafie. La testimonianza del questore De Simone lavorare con lui era esaltante. Vediamo poi in basso, estorsione a mamma e moglie, condannato, il pescatore di Martinsicuro, salvato in mare dopo 40 ore, è stato invece assolto dall'accusa di maltrattamenti. Andiamo avanti, lotta alla contraffazione, il ristoratore stampa targhe false, e le vende a 50 euro, è stato scoperto e denunciato. Insegno tecnologia, grazie a Paul Newman, il rosetano Francesco Luciani e l'ideatore dei Febi Camp per far conoscere le innovazioni ai ragazzi. Siamo alla pagina per quanto riguarda la provincia di Teramo e polemica elettorale sulle nuove telecamere a Pineto, invece a Silvi, sindaco e assessore in Belgio per il progetto Erasmus+. Ancora Silvi, cronaca, guato a Silvi, la difesa esamina l'auto, cronaca giudiziaria, a dire la verità, l'avvocato di Mancinelli ha chiesto di poter visionare lo sportello della macchina guidata da Presutti. Proseguiamo, pagina dell'Aquila del centro, in questo caso siamo però nella Marsica d'Avezzano, chiesti danni per un milione, nostro figlio disabile dopo due vaccini, i genitori fanno causa al Ministero e Agenzia del Farmaco, il consulente del Tribunale, elevata probabilità di correlazioni. In basso, a Massadalbe, badante picchia il malato con una stampella, lite in un'abitazione, la cinquantenne rinviata a giudizio per lesioni, l'uomo ferito alla testa. Siamo alla seconda pagina di l'Aquila e provincia, attacco hacker, avvocati nel mirino, si parla di allarme informatico, penalisti oggi in sciopero, sottotiro le PEC di molti legali, interdetta la presentazione dei ricorsi, possibile violazione della privacy. E poi, sul Mona, Vigili Urbani, concorso a giugno, 422 candidati in corsa per cinque posti. Infine, Castel di Sangro, che diventa capitale del tennis a giugno, i campionati mondiali studenteschi nel centro dell'Alto Sangro. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma possiamo fermarci a questo punto per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo alla seconda parte di Mattino 6, abbiamo visto insieme le pagine interne del quotidiano Il Centro, siamo ora all'inserto Abruzzo del Messaggero, pagina 2, ricostruzione in ritardo. Vedete il titolo, ore allarme, il governatore Marsilio ieri alla riunione tecnica di Roma. Ecco il nostro pacchetto di proposte da portare al governo. E poi in basso le comunali, oggi l'abbiamo detto anche prima, il ministro Salvini a Giulianova e Montesilvano per sostenere i candidati a sindaco del centro-destra. Pescara, faro sulla giungla del lavoro nero in Val Pescara scovati 12 lavoratori irregolari dalla Guardia di Finanza. E poi in basso una targa, ricorda Anna Carlini nel tunnel dell'orrore alla stazione. Abbiamo visto prima il servizio. Guerra, chi inquina, fiume e mare, le priorità dei candidati sindaci al dibattito con l'associazione degli ex consiglieri comunali. Insieme al governo Ombra, così acerbo Gela Civitarese, il leader nazionale di rifondazione anticipa l'esito delle urne, guarda una coalizione per la vigilanza. Abbiamo visto anche in questo caso il servizio. Andiamo avanti, la pagina dell'area metropolitana di Pescara ci porta a Montesilvano più sicuri. Grazie ai carabinieri è stata infatti conferita la cittadinanza onoraria all'arma dal comune di Montesilvano. Comuni al voto, città Sant'Angelo da Dona presenta la squadra di azione politica in vista delle elezioni nella cittadina della provincia di Pescara. Penne chiesa a pezzi e saccheggiata Penne chiede aiuto a Pinot e poi Galà della solidarietà con Vincenzo Livieri e Gio Di Tonno per aiutare il cuore delle star. Siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero progetto case Rogo distrugge l'alloggio usato abusivamente l'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona e poi zone 30 km orari e LED scatta il piano in diverse città in diverse vie della città e poi vedete di spalla Silveri Junior ecco perché ho scelto Angelo Mancini non ho sabotato parla dunque Roberto Junior Silveri e andiamo in basso invece per parlare della sanità sanità scontro sindacati regione sui concorsi CISLUIL e ANAO contestano infatti la decisione dell'ente si rischia il collasso parcheggi uffici San Bernardino cambia siamo sempre all'Aquila ormai in corso di affidamento la progettazione esecutiva e poi con le maggio solo il comune può salvare l'orto botanico in basso decennale del terremoto convegno fra sfidi e opportunità organizzato dal Rotary Club e poi Anime Sante esposte due opere mariane nella chiesa di Santa Maria del Suffragio e poi all'emiciclo gemellaggio tra Lalighieri e Domodossola questo è il gemellaggio tra due scuole dell'Aquila e di Domodossola paese Lombardo siamo alla pagina di Avezzano Sulmona partiamo da Avezzano comune Cam e Aciam donne al comando si rafforza la posizione della presidente del consiglio Cosimati con la costituzione del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia e poi anche Marsilio ci sarà a benedire il nuovo schieramento domani alle 10 a Palazzo di Città e poi Sulmona sulla snab subito assemblea pubblica e questa la richiesta dei comitati cittadini spostiamoci nella parte bassa della pagina siamo sempre a Sulmona di Fida Coggesa smentisce ma la regione conferma e poi Oricola riemerge il caso del tesoro sparito e poi in basso malmena il cognato che mangia troppo ad Alba Fucens siamo la pagina di Chieti del messaggerio di primio incontro a Forza Italia ora servono i voti per votare il bilancio Raimondi il partito ha sempre difeso la di Biase adesso ha cambiato idea la Luisa illustra la manovra finanziaria non abbiamo toccato i servizi sociali e poi Croce Rossa bandiera donata al sindaco di San Giovanni Tiatino Luciano Marinucci in basso le spine dei parcheggi a Chieti abbonati in coda fra disagi e proteste siamo a Lanciano scuole e strade priorità nei lavori il comune ha varato il piano triennale delle opere pubbliche piscine e le gemelle sempre più nel caos il comune ha deciso di rescindere il contratto e poi a Tessa lettera a Di Maio dell'unione sindacale di base Sevel limita le donazioni di sangue San Salvo incontro Sam e Denso verso un accordo tirano un sospiro di sollievo i 25 operaie poi vasto sabbia rimossa maximulta infine Ortona l'amministrazione comunale assicura le riserve saranno tutelate siamo alla pagina di Teramo del messaggero lo spin doctor del comune possibile un inceneritore Christian Francia la nostra mission è cambiare completamente il centro e poi Teramo Ambiente nuovo presidente bando a tempo di record e poi ordine al merito Università di Teramo onorificenza al vice capo della polizia l'abruzzese Luigi Savina in basso inchiesta sull'acqua il processo inizierà il 13 settembre e poi da domani invece partirà Teramo Comics tre giorni di appuntamenti siamo alla pagina del litorale della provincia di Teramo siamo a Giulianova il cinema moderno pronto a ripartire pronto un progetto di salvataggio guidato da Manzone Cola Iacovo ed un gruppo di volontari Val Vibrata da Sant'Egidio il reddito di maternità tornano nuovo si sfidano due donne si parla ovviamente in questo caso anche di politica sulla costa Teramana carenze igieniche stop al birrificio Martinsicuro materassi tv e mobili buttati per strada il sindaco trovati e multati ha detto il primo cittadino due incivili ad albadriatica sfuma la bandiera blu polemica tra il sindaco ed il movimento 5 stelle siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere e a leggere insieme le pagine interne del quotidiano la città partiamo da pagina 3 la politica regionale bocciati 5 ricorsi per i seggi regionali la legge elettorale sarà anche stramba ma la corte d'appello dell'aquila l'ha applicata alla lettera senza errori e intanto il presidente della regione Marco Marsilio incontra il sottosegretario crimi per velocizzare il percorso della ricostruzione post terremoto in basso la corte di giustizia europea blocca l'inceneritore abruzzese bocciato il decreto attuativo dello sblocca Italia per la mancanza della valutazione ambientale strategica proseguiamo con la prossima pagina siamo a Teramo nuovo presidente della Teramo Ambiente in tempi record pubblicato il bando per sostituire Bozzelli tra due settimane ci sarà il successore in via Delfico con l'atterrato alto cittadini e Teramo Ambiente ripuliscono parchi e aree verdi e poi in basso l'inchiesta di Milano primi interrogatori sulle mazzette lombarde il terramano Fabio Altitonante agli arresti domiciliari verrà sentito domani dai magistrati e siamo alla cerimonia che si è tenuta all'Università di Teramo ieri il guido secondo al super poliziotto antimafia Luigi Savina che è stato premiato dal rettore dell'Università di Teramo proprio nell'Università in cui Savina ha studiato e si è laureato da ragazzo e allora possiamo andare a vedere il servizio su questa cerimonia il servizio curato per noi da Tania Bonnici Castelli l'Università di Teramo ha conferito al prefetto Luigi Savina l'onorificenza dell'ordine al merito dell'Ateneo guido secondo degli aprutini nel corso di una solenne cerimonia svoltasi nell'Aula Magna Benedetto Croce è stato il rettore Dino Mastrocola a prendere la parola per primo dopo l'ingresso del corteo del senato accademico e a introdurre l'Alexio Magistralis del prefetto Savina chietino di nascita Savina si è laureato all'Università di Teramo ha diretto la squadra mobile della questura di Palermo il centro interprovinciale criminal pol di Napoli e la squadra mobile della questura di Milano oggi riveste il prestigioso ruolo di vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie attenzione massima all'Abruzzo dichiara Savina dove in tema di sicurezza la guardia non va mai abbassata oggi qui rivedrò il procuratore generale ricordo giovane sostituto a Pescara negli anni 90 quando c'è stato un primo tentativo di aggressione di natura mafiosa verso l'Abruzzo la risposta però data all'autorità giudiziaria da noi investigatori con una serie di provvedimenti di cattura per 416 bis quindi l'attenzione c'è sempre stata massima e oggi il riconoscimento da parte dell'Università di Teramo un riconoscimento che prendo io come Luigi Savina con un grande onore perché 40 anni fa il 16 marzo 79 mi sono lavorato in questa università ma nel prendere questo riconoscimento questa onorificenza così come ogni altro che mi è stato dato io ricordo tutti gli uomini che hanno lavorato con me perché per me è fondamentale il concetto e la squadra tutti quanti assieme si riesce a fare un ottimo lavoro il primo ordine al merito dell'Università di Teramo risale al 2015 e fu assegnato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico a Giovanni Legnini vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura l'onorificenza è stata in seguito conferita all'euro parlamentare Paolo De Castro a Emma Bonino e a Edith Brook l'Aquila spinge per la fusione camerale siamo a pagina 7 del quotidiano la città gli imprenditori di Confindustria non piace affatto il congelamento deciso dalla camera di commercio di Teramo ristoratore nel tempo libero stampava targhe false la polizia stradale scopre una stamperia illegale denunciati il titolare anche i clienti automobilisti cronaca nassi in un birrificio 41.000 litri di bionda sotto sequestro educazione civica la nuova legge è partita proprio da Teramo i Lions hanno raccolto 16.000 firme e relazionato in commissione prima del voto in Parlamento Go Green Red Blue buone idee prendono forma al Rozi stamattina l'incontro istituzionale della manifestazione dedicata al tema della sostenibilità ambientale e si terrà questo appuntamento nella sede dell'istituto agrario Ignazio Rozi andiamo avanti Fondazione incoraggia le mini imprese green ideate dagli studenti delle scuole superiori Teramane grazie ai corsi imprenditoriali promossi da Palazzo Melatino siamo alla pagina della provincia abbandonati i parchi comunali di Montorio Montorio Polis esorta all'amministrazione comunale ad intervenire sui giardini parchi e oasi naturalistiche incontro a Basciano Zennaro e Berardini sabato saranno a Basciano per il bando dedicato ai giovani in basso siamo ad Arsita vedete questo titolo anche ad Arsita il progetto escursionistico dedicato ai disabili degrado incuria nelle scuole di Tortoreto l'attacco di impegno civico sullo stato delle strutture spazi pubblici lasciati dicono all'abbandono Martinsicuro donne ubriache molestano i clienti di un bar denunciate dai carabinieri e poi Torano al voto questa sera la presentazione della lista di Piera Ruffini proseguiamo pagina di Giulianova Matteo Salvini oggi torna Giulianova per sostenere la candidatura di Tribuiani il leader nazionale della Lega ministro dell'interno parlerà dal palco allestito in piazza del mare sempre a Giulianova pronto il container di aiuti umanitari per il Senegal proseguiamo siamo a Roseto degli Abruzzi scoppia il caso della casa funeraria l'atto approvato in consiglio per Marcone non rispetta però la legge regionale ancora a Roseto lavori di pulizia alla fontana del monumento ai caduti del mare e poi a Cologna è iniziata la manutenzione estiva del lungomare appalti ad una ditta esterna i lavori che continueranno durante tutta l'estate siamo ancora a Roseto raffica di furti nel centro di Roseto questo è il titolo di pagina 17 nuove segnalazioni dei cittadini esasperati dai continui colpi portati a termine negli ultimi giorni ancora poi Pineto 11 telecamere in più per la sicurezza dei cittadini iniziati lunedì i lavori di ampliamento della sorveglianza in diverse città Silvi sindico assessore ad Anversa per il progetto dell'Unione Europea il comune Terramano è capofila dell'iniziativa finanziata dal programma Erasmus Plus siamo la pagina della cultura tra lupo e pastore patto di rispetto oggi ci sarà la presentazione del libro di Consalvo emanente con loro anche tassi e siamo così arrivati alle pagine dello sport alla pagina sportiva come ogni mattina nell'ultima parte di mattino 6 vediamo i titoli dei quotidiani sportivi nazionali gazzetta dello sport una champion mai vista il Tottenham ribalta l'Ajax finale con il Liverpool e poi San Siro Trema inchiesta della gazzetta lo stadio è sicuro ma continuano le vibrazioni adesso cadono anche dei calcinacci la paura dei tifosi i concerti possono essere un problema e poi vertice alla Juventus ecco il piano per ripartire ora tocca a Max e poi Di Francesco tre giorni a Milano nuovi contatti con il Diavolo per l'ex allenatore pescarese della Roma vediamo il Corriere dello Sport Sarri non torno il tecnico del Chelsea vuole rimanere alla guida della formazione britannica e poi strepitoso Tottenham ribaltato l'Ajax 3 a 2 la finale tutta inglese tra Tottenham e Liverpool e poi Allegri e un giallo imminente il vertice a Torino ma si parla anche di un clamoroso divorzio tutto sport Toro che carica e poi Juve Allegri la verità infine urlo Tottenham eroica rimonta Ajax fuori e siamo allo sport delle pagine del centro altra rimonta inglese finisce la favola Ajax Tottenham che passa ad Amsterdam per 3 a 2 e poi Sarri esclude il ritorno in Italia voglio restare al Chelsea vediamo l'altra pagina dedicata al Pescara con l'intervista a tutta pagina per Del Grosso che firma i playoff grinta e fame io ci credo vediamo in basso Mancuso in dubbio Piloni incrocia le dita fastidio muscolare per il bomber Caso Palermo Lega rinvia martedì la decisione sui playoff e poi campionato primavera la Supercoppa giocata a Bologna con la vittoria dei Felsinei sul Pescara per 5 a 1 siamo alla pagina della Serie C Teramo sarà rivoluzione confermati solo in 8 Speranza e Infantino sono sotto contratto il club deve valutare i rinnovi di Caidi De Grazia e Celli Proietta e Ventola rientrano al Pescara Zecca al Sassuolo e la Viterbese ha alzato la Coppa Italia Monza KO al 92 dunque l'undicesima in classifica la Ternana non parteciperà ai playoff parliamo invece di Serie D Di Meo Vastese e Agnonese sarà una battaglia il tecnico doppio ex presenta i playoff bianco-rossi favoriti vincerà dice Di Meo chi saprà gestire la tensione e siamo alla pagina dell'eccellenza sabato alle 16.30 la finale playoff a Silvi di fronte ci saranno il Sambuceto e la Torrese Torrese all'attacco senza fare calcoli dice Cristofari e invece il tecnico del Sambuceto del Zotti dibatte usiamo la testa calcio a 5 Ercolessi ci crede a questa pone voglio la finale sabato scatta la semifinale dei playoff di serie A di calcio a 5 color max in 3 salutano ok il città di Montesilvano siamo alla pagina del basket con il capolinea ai playoff di Roseto che perde per 81 a 74 sul parquet del Treviglio e in gara 5 saluta la competizione e soprattutto la stagione vediamo anche la pagina che riguarda gli altri sport ma anche il basket con la viola Reggio Calabria che ha visto respinto il ricorso l'amatori pescare dunque nei playoff e domenica affronterà al pala elettra il nardò raiola carica noi siamo pronti volle femminile altino sabato inizia la rincorsa la serie A2 Orsogna in campo il 22 siamo alle pagine dello sport del messaggero pescare playoff tutte le soluzioni 6 squadre a sgomitare per il ranking la sicurezza per i biancazzurri solo battendo la salernitana e intanto si punta in chiave mercato al prolungamento del contratto per Sottila arrivato in prestito dalla Fiorentina parliamo anche del Teramo Gomis Teramo siamo stati vicini ad un sogno il portiere infortunato anche il prossimo anno dovrebbe far parte della Rosa Lis Gomis ospite martedì sera nell'appuntamento della nostra rete Pro Teramo condotto da Jacopo Forcella siamo alla seconda pagina dello sport del messaggero il basket i playoff di serie A2 maschile gli Sharks beffati a Treviglio Rosetani in partita fino all'ultimo la bella finisce 81 a 74 per i bergamaschi che passano al turno successivo dove se la vedranno con Verona calcio a 5 ecco e sapone testa al Napoli team importante e poi come ogni giovedì la vediamo inquadrata in questo caso la mezza pagina che il messaggero riserva al calcio WISP di Pescara al comitato provinciale WISP di Pescara con gli articoli le curiosità e i numeri del calcio del comitato provinciale di Pescara campionati che stanno arrivando al termine e chiudiamo con lo sport dal quotidiano la città Saveriano re del gol poche le insufficienze le pagelle del quotidiano la città in questo caso del nostro Jacopo Forcella ai giocatori bianco rossi le andiamo a leggere insieme Gomis 7 per il portiere sfortunato per un grave infortunio Lewandowski 6 e mezzo Pacini 6 e mezzo Altobelli senza voto ha giocato davvero poco Caidi 7 Alessandro Celli 7 Fiordaliso 7 e mezzo forse la sorpresa più bella della stagione per i bianco rossi Mantini senza voto solo 518 minuti giocati Piacentini 6 e mezzo Speranza 6 anche per Speranza come per Gomis un grave infortunio Ventola 6 e mezzo Armeno 5 e mezzo Persia 6 e mezzo De Grazia 7 e poi Proietti 6 e mezzo Spighi 6 e mezzo Barbuti 5 e mezzo K 5 e mezzo Infantino 8 il migliore della formazione bianco rossa neanche a dirlo i suoi gol sono serviti per timbrare la salvezza Sparacello 7 Zecca 5 e mezzo Maurizzi 8 tecnico che ha preso un gruppo allo sbando e in difficoltà di classifica lo ha fatto diventare squadra portando la formazione bianco rossa alla salvezza e noi con le pagelle del Teramo chiudiamo l'appuntamento di oggi con Mattino 6 l'appuntamento di giovedì 9 maggio io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi come sempre per la cortese attenzione vi rinnovo gli appuntamenti della nostra rete per quanto riguarda l'informazione con la prima edizione del TG6 alle 14 e a proposito di sport questa sera alle 21 in diretta dai nostri studi un nuovo appuntamento con Velo per parlare di ciclismo con Jacopo Forcella Luciano Rabottini e i loro ospiti alla vigilia proprio della partenza del Giro d'Italia grazie ancora e buona giornata grazie a tutti